Paola. Stazione di Paola. Il treno Intercity Notte 794 di Trenitalia, proveniente da Reggio Calabria Centrale, è diretto a Torino Porta Nuova, delle ore 0 e 49, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Sapri, Salerno, Napoli Centrale, Aversa, Formia, Latina, Roma Tiburtina, Firenze Camponarte, Prato Centrale, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Milano Porta Garibaldi, Novara, Vercelli, Torino Porta Susa. Carrozze dalla 1 alla 3 in coda al treno, dalla 4 alla 5 centro treno, dalla 6 alla 8 testa treno. Su questo treno è disponibile il servizio cucette. Il treno Intercity Notte 795 di Trenitalia, proveniente da Torino Porta Nuova, è diretto a Reggio Calabria Centrale, delle ore 4 e 38, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Amantea, la Mezzia Terme Centrale, Vibo Marina, Tropea, Ricadi, Nicotera, Rosarno, Gioia Tauro, Palmi, Villa San Giovanni, Reggio Calabria Lido. Carrozze dalla 2 alla 3 in testa al treno, dalla 4 alla 6 centro treno, dalla 7 alla 9 coda treno. Su questo treno è disponibile il servizio cucette. Il treno regionale 3737 di Trenitalia, delle ore 5 e 30, per Reggio Calabria Centrale, è in partenza dal binario 5. Ferma a Amantea, la Mezzia Terme Centrale, Vibo Valencia Pizzo, Rosarno, Gioia Tauro, Palmi, Bagnara, Fabazzina, Scilla, Villa San Giovanni, Reggio di Calabria Catona, Reggio di Calabria Gallico, Reggio di Calabria Archie, Reggio di Calabria Santa Caterina, Reggio Calabria Lido. Il treno regionale veloce 2426 di Trenitalia, proveniente da Cosenza, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 6 e 17, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Guardia Biemontese Terme, Cetraro, Capo Bonifati, Belvedere Marittimo, Diamante Buonvicino, Scalea Santa Domenica Talao, Praia Ieta Turcora, Maratea, Sapri, Policastro Bussentino, Centola, Pisciotta Palinuro, Ascea, Vallo della Lucania Castelnuovo, Omignano Salento, Agropoli Castellabate, Pestum, Capaccio Roccadaspide, Battipaglia, Ponte Cagnano, Salerno. Il treno regionale 12729 di Trenitalia, proveniente da Sibari, è diretto a Sapri, delle ore 7 e 59, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Fuscaldo, Guardia Biemontese Terme, Acquapesa, Cetraro, Capo Bonifati, Belvedere Marittimo, Diamante Buonvicino, Grisolia Santa Maria, Marcellina Verbicaro, Orso Marso, Scalea Santa Domenica Talao, Praia Ieta Turcora, Marina di Maratea, Maratea, Acqua Fredda. Il treno Intercity 550 di Trenitalia, proveniente da Reggio Calabria Centrale, è diretto a Roma Termini, delle ore 8 e 10, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Scalea Santa Domenica Talao, Maratea, Sapri, Vallo della Lucania Castelnuovo, Battipaglia, Salerno, Napoli Centrale, Aversa, Formia, Latina. Carrozze dalla 1 alla 3 e testa treno, dalla 4 alla 6 centro treno, dalla 7 alla 8 coda treno. Il treno regionale 3677 di Trenitalia, proveniente da Melito di Portosalvo, è diretto a Cosenza, delle ore 8 e 15, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Castiglione Cosentino. Il treno Intercity 1588 di Trenitalia, proveniente da Reggio Calabria Centrale, è diretto a Milano Centrale, delle ore 11 e 32, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Praia Ieta Turcora, Sapri, Pisciotta Palinuro, Ascea, Salerno, Napoli Centrale, Aversa, Formia, Latina, Roma Tiburtina, Orvieto, Chiusi Chianciano Terme, Terontola Cortona, Arezzo, Firenze Rifredi, Prato Centrale, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo. Carrozze dalla 1 alla 3 e testa al treno, dalla 4 alla 6 centro treno, dalla 7 alla 9 coda treno. Il treno Intercity 723 di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Palermo Centrale, delle ore 12 e 28, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma alla Mezia Terme Centrale, Villa San Giovanni, Villa San Giovanni Mare, Messina Marittima, Messina Centrale, Milazzo, Barcellona, Capodorlando Naso, Sant'Agata di Militello, Cefalu, Termini Imerese. Carrozza 3 in coda al treno. Il treno regionale veloce 2427 di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Cosenza, delle ore 12 e 47, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Castiglione Cosentino. Il treno Intercity 728 di Trenitalia, proveniente da Palermo Centrale, è diretto a Roma Termini, delle ore 13 e 27, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Sapri, Salerno, Napoli Centrale, a Versa, Formia, Latina. Carrozza 1 in coda al treno. Il treno Frecciabianca 9873 di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Reggio Calabria Centrale, delle ore 13 e 27, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma alla Mezzia Terme Centrale, Vibo Valencia Pizzo, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni. Carrozze dalla 1 alla 3 in coda al treno, dalla 4 alla 6 centro treno, dalla 7 alla 9 testa treno. Il treno regionale veloce, 24 32, di Trenitalia, proveniente da Cosenza, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 15 e 24, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cetraro, Cabo Bonifati, Belvedere Marittimo, Diamante Buonvicino, Marcellina Verbicaro Orso Marso, Scalea Santa Domenica Talao, Praia Ieta Tortora, Maratea, Sapri, Policastro Bussentino, Centola, Pisciotta Palinuro, Ascea, Vallo della Lucania Castelnuovo, Omignano Salento, Agropoli Castellabate, Pestur, Capaccio Roccadaspide, Battipaglia, Ponte Cagnano, Salerno.